Benvenuto in Passepartout. In questo corso, vedremo come configurare il modulo gestione antiriciclaggio. Per utilizzare questa procedura, occorre accedere all'anagrafica dell'azienda interessata, ed impostare il corretto gruppo SPRIX. Nel caso in cui il numero della cartella SPRIX fornita da Passepartout sia stato variato, indicare quello corretto. Inoltre, la procedura controlla che siano presenti tutti i dati anagrafici dell'azienda, compresi il numero di telefono, ed indirizzo e-mail. Successivamente, avviare la procedura. E utilizzare il tasto Configura per accedere alla tabella Parametri Azienda. In questa finestra, vengono memorizzate le informazioni necessarie per permettere all'applicazione di operare correttamente. Le informazioni da memorizzare sono, campo numeratore, che indica il progressivo della segnalazione. L'utente amministratore, ovvero l'utente abilitato alla manutenzione delle tabelle aziendali. Tipo soggetto incaricato. In questo campo, è attivo questo tasto Funzione, per poter selezionare le opzioni disponibili. FLAG, per l'attivazione della gestione studio associato. Consente di gestire per ogni registrazione, o per ogni identificazione, l'associato dello studio che ha eseguito gli adempimenti. Attivazione Collage, per l'attivazione del modulo identificazioni all'interno della rubrica Clienti. Classe DocuVision, per gestire gli eventuali allegati. Coerentemente con le impostazioni standard di Business Pass, sono accettati solo valori maggiori di 2001, ed inferiori a 2100. Numero stampante predefinita. Premendo questo pulsante, è possibile inserire i dati del proprio ordine di riferimento, per inviare le operazioni sospette. Dopo aver configurato l'applicazione, è necessario codificare l'elenco dei collaboratori dello studio abilitati all'uso del modulo antiriciclaggio, e delega per l'identificazione dei clienti e di titolari effettivi. Accedere quindi alla tabella Delegati. Premendo su questo pulsante, è possibile inserire tali soggetti. In questa finestra, sono presenti i campi, Utente. Indica il codice utente del collaboratore abilitato all'accesso a Business Pass. Cognome e nome. Titolare. Indica se l'utente delegato è il professionista, o uno dei suoi collaboratori. Codice fiscale. Data. Indica il periodo nel quale l'utente è abilitato a utilizzare il modulo antiriciclaggio. La gestione antiriciclaggio è un'applicazione Sprix Collage integrata con Passparto, nata per soddisfare gli obblighi di gestione, prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro, beni, o altre utilità. Questo modulo rappresenta un valido supporto per la conoscenza e l'applicazione della normativa antiriciclaggio, oltre che una guida nella predisposizione dell'archivio unico informatico. Il software è rivolto a tutti i liberi professionisti come avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili, società di revisione, previsori contabili, consulenti del lavoro e periti commerciali. Gestione antiriciclaggio può essere utilizzato all'interno del medesimo software da più professionisti contestualmente. Per ogni azienda presente nell'installazione, è possibile caricare un archivio unico informatico. La procedura permette di Registrare e gestire i dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente o per conto di terzi. Integrare i dati anagrafici dai prodotti gestionali Passpartout. Registrare e conservare le informazioni nell'archivio unico informatico. Compilare la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette. Redigere l'informativa preventiva sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali ai fini dell'antiriciclaggio. Per agevolare la compilazione dei vari campi dell'archivio unico informatico, il prodotto propone delle tabelle precompilate con i dati necessari ai professionisti. Vediamo ora come procedere. Affinché il modulo gestione antiriciclaggio funzioni correttamente, occorre valorizzare i dati dell'azienda del professionista, se l'azienda è di tipo persona fisica, devono essere valorizzati i dati del dichiarante, se l'azienda del professionista è una società, devono essere correttamente inseriti i dati del rappresentante legale. Prendiamo quest'ultima configurazione come esempio per questo corso. Dopo aver configurato i dati aziendali, puoi procedere con la fase di identificazione della clientela. In questa fase vengono registrati tutti i dati riguardanti l'identità del cliente e del soggetto per conto del quale gli eventualmente operi, nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi. Si ricorda che tale identificazione, andrà obbligatoriamente effettuata entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Accedendo ad un conto cliente presente all'interno della rubrica aziendale, sul campo Codice alternativo, si attiva il pulsante Antiriciclaggio. Al suo interno, vengono mostrate tutte le identificazioni compiute per lo specifico cliente. Da questa finestra, è possibile codificare i soggetti avente funzione di dichiarante, rappresentante legale, e titolare effettivo. Inseriamo, ad esempio, il soggetto dichiarante, indicando tutti i suoi dati anagrafici. Dopo aver inserito tali informazioni, è necessario compilare la parte relativa al tipo di verifica effettuata. Supponiamo quindi, che l'identificazione sia eseguita direttamente dal professionista. Utilizzando una modalità di tipo ordinaria. Specifichiamo inoltre il tipo di legame che il dichiarante ha con l'azienda. Nel caso in cui il soggetto è una persona politicamente esposta, occorrerà inserire la corretta modalità di verifica, ovvero quella rafforzata. È necessario inoltre indicare lo stato attuale dell'identificazione. Avendo attivato in questa azienda la gestione degli studi associati, sarà fondamentale indicare per quale professionista dello studio è stata effettuata la verifica. Dopo aver compilato tutti i campi presenti nella videata, è fondamentale associare al dichiarante un livello di rischio. Si ricorda che, per i soggetti con funzione di rappresentante legale o titolare effettivo, tale inserimento non è necessario. Gestione antiriciclaggio, calcola in automatico il livello totale di rischio legato all'identificazione del dichiarante. Se si intende lasciare momentaneamente sospesa l'identificazione, è possibile porla in stato provvisorio. In questo caso, sarà sufficiente rientrare nella schermata per confermarla in stato definitivo. Gestione antiriciclaggio, permette inoltre di annullare o modificare una o più identificazioni. In entrambi i casi, la procedura cambierà automaticamente lo stato dell'identificazione, e assegnerà la data in cui è avvenuto tale cambiamento. Nel caso in cui la segnalazione venga rettificata, sarà necessario inserire una nuova identificazione, assegnandogli in lo stato 1, ed inserendo la data di rettifica. Da questa finestra, è necessario indicare il mandato che il cliente ha conferito al professionista. In particolare, va specificato. Il codice del cliente. La sigla dell'azienda presente in Passepartout, nella quale viene tenuta la contabilità del cliente. Natura giuridica del cliente. Descrizione. E il periodo del conferimento dell'incarico. Dopo aver identificato la propria clientela, è possibile inserire le operazioni da loro compiute nell'archivio unico informatico. Al suo interno, sono conservate tutte le informazioni acquisite secondo i principi previsti dalla normativa. Oggetto di tali registrazioni, sono i rapporti continuativi instaurati con la propria clientela, e le operazioni superiori ad un certo importo previsto dalla legge. Vediamo come procedere. Il modulo gestione antiriciclaggio, è strutturato in due diverse parti. Sezione ricerca, e sezione registrazioni. Nella ricerca, è possibile valorizzare i filtri per individuare una selezione di registrazioni. Ove non venga indicato alcun filtro, la procedura estrapola tutte le registrazioni presenti nell'archivio. Confermando, vengono elencate tutte le registrazioni che rispondono ai filtri inseriti. Nella sezione delle registrazioni, vengono mostrate a video tutte le informazioni presenti all'interno della segnalazione, come, codice. Ovvero il numero progressivo generato automaticamente dal programma al salvataggio indefinitivo. Data di inserimento. ITER. Che indica se la registrazione è in stato definitivo, provvisorio, o annullato. STATO. Indica se la registrazione è nuova, sostitutiva di una precedente, o annullata. Prestazione eseguita. Esecuzione. Può assumere i valori, in corso, eseguita, o non eseguita. Tipo prestazione. Associato dello studio, visibile solo con il flag studio associato attivo. Codice cliente. Tipo mandato. Può assumere i valori sì, oppure no. Codice anomalia. Data di invio della registrazione. Rischio totale. Premendo su questo pulsante, è possibile inserire una nuova segnalazione. Su questo campo, indicarne lo stato. Nel caso in cui si sta inserendo una nuova registrazione, lasciare il codice 0. Se la registrazione ne sostituisce una già esistente, e quindi annullata per rettifica, allora mettere il codice 1, e specificare a fianco la data dell'annullamento. Indicare successivamente il professionista dello studio per il quale si sta inserendo la registrazione. Inserire il cliente, ed accedere alla maschera dei soggetti. In questa videata, occorre associare le identificazioni precedentemente caricate, al tipo di soggetto desiderato. È possibile inserire un soggetto con funzioni di dichiarante, di rappresentante legale, e titolare effettivo. In quest'ultimo caso, è possibile codificare più soggetti aventi la stessa funzione, specificando per ognuno la relativa percentuale di partecipazione. Dopo aver inserito tali informazioni, è possibile indicare gli importi dell'operazione che si sta codificando. Nel caso in cui sia presente del denaro contante, inserirne anche l'origine. Indicare inoltre il tipo di operazione effettuata. Il tipo della prestazione. E il relativo stato. Nel caso in cui la prestazione sia in corso o già eseguita, indicare a fianco anche la relativa data. Nel caso in cui si sta codificando una nuova segnalazione, sarà possibile inserire la tipologia di anomalia rilevata. E la data di invio all'ente destinatario. Specificare inoltre il protocollo, ovvero il numero assegnato alla segnalazione al momento della comunicazione all'ente destinatario. È possibile inoltre inserire delle annotazioni relative alla registrazione. Tramite questo pulsante, inserire il rischio relativo all'operazione, assegnando a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore o maggiore rischiosità. Da questa tabella, dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione. Alla conferma, il programma aggiornerà in automatico i valori di rischio totali, sommando i valori del rischio cliente e dell'operazione appena inserita. Premendo su questo pulsante, viene aperta la scheda DocuVision, nella quale sono prevalorizzati i campi. Data. Riportando la data terminale. Che. Con il codice ID della registrazione. Classe. Con la classe memorizzata in fase di configurazione nella tabella Parametri aziendali. Conto. Con il cliente della registrazione. Note. Con l'indicazione del codice, della data registrazione, e del tipo di prestazione. L'utente, dovrà quindi inserire il percorso del file da allegare. La tipologia dell'allegato. L'oggetto. E la relativa scadenza. Dopo aver confermato, premendo su questo pulsante, sarà possibile visualizzare i riferimenti all'allegato inserito precedentemente. Per poter visualizzare il file, occorre accedere all'anagrafica cliente e utilizzare DocuVision. Tramite questa funzione, è possibile effettuare le seguenti stampe. Identificazione. È finalizzata all'attestazione del professionista sull'adeguata verifica della clientela. Valutazione rischio. Utile per l'attestazione del professionista sulla valutazione del rischio. Rinuncia mandato. Necessaria nel caso in cui il professionista non sia in grado di identificare il titolare effettivo dell'azienda interessata. Segnalazione. Racchiude tutte le informazioni precedentemente inserite. Privacy. Prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Dichiarazione del cliente in merito agli obblighi antiriciclaggio. Per poter effettuare le stampe di gestione proposte dalla procedura, occorre salvare la registrazione in stato definitivo. Si ricorda che, nel caso si voglia lasciare momentaneamente sospesa la segnalazione, è possibile porla in stato provvisorio. Simuliamo ora di volere effettuare la stampa della segnalazione. Per prima cosa, occorre che all'interno della registrazione, siano valorizzati i campi anomalia, data e protocollo. Nel caso in cui tali informazioni non siano state precedentemente caricate, utilizzare questo pulsante per integrarle. Entriamo ora nella registrazione, ed effettuiamo la stampa desiderata. Grazie Gestione antiriciclaggio, fornisce inoltre la possibilità di esportare, o stampare, il registro della clientela. Grazie 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 Grazie